ecco cosa si trova dopo il ritorno a casa dopo e praticamente sono tre orette e mezzo con due legni dopo tre orette e mezzo abbiamo queste braccine qui ora vi faccio vedere quindi basta mettere un legno in fondo e aprire è un po lungo ok guardate dietro come riparte l'accensione con questo solo con questo legnetto ecco davanti ovviamente non abbiamo l'aria abbiamo poca l'aria perché la griglia è rivolta e obliqua quindi non ha contatto il legno e la carbonella con tanta aria di conseguenza non non parte la combustione all'aria l'abbiamo solamente dietro dove vedete che partita la combustione vedete l'aria vedete qui non abbiamo l'aria invece dietro c'è la carbonella erovente e sotto c'è l'aria ok vi saluto vi volevo far vedere dopo tre ore e mezzo con proprio ho lasciato due legni quelli che avete visti nei precedenti video e ora per farvi vedere quello che ho trovato dopo tre ore e mezzo di assenza